L'intera questione dei fenomeni si fonda sull'esatta comprensione delle antiche filosofie. A che cosa infatti dobbiamo rivolgerci nella nostra perplessità se non agli antichi saggi, visto che con il pretesto della superstizione i moderni ci rifiutano una spiegazione? Domandiamolo loro che cosa sanno della vera scienza e della vera religione, non nei semplici particolari, ma nella concezione globale di queste verità gemelle, così forti nella loro unione, così deboli se divise. Inoltre possiamo trovare un profitto paragonando questa decantata scienza moderna con l'antica ignoranza, questa perfezionata teologia moderna con le dottrine segrete dell'antica religione universale. Forse potremmo scoprire così un terreno intermedio su cui raggiungerle entrambe, e trarne profitto. Solo la filosofia platonica, il più elaborato compendio dei sistemi astratti dell'antica India, può offrirci questo terreno intermedio. Sebbene siano trascorsi ventidue secoli e un quarto dalla morte di Platone, le menti elevate di tutto il mondo si occupano ancora dei suoi scritti. Egli fu, nel pieno senso della parola, l'interprete del mondo. Il più grande filosofo dell'era pre-cristiana rispecchiò fedelmente nelle sue opere lo spiritualismo dei filosofi vedici che vissero migliaia di anni prima di lui e l'espressione metafisica di quello spiritualismo. Viasa, Gemini, Capila, Vriaspatì, Sumati e tanti altri hanno trasmesso la loro indelebile impronta attraverso i secoli, imprimendola su Platone e la sua scuola. E' così dimostrato che a Platone e agli antichi saggi Hindu fu rivelata la stessa saggezza. Sopravvivendo così all'azione del tempo, che cosa può essere questa saggezza se non divina ed eterna? Platone insegnò che la giustizia sussiste nell'anima del suo possessore e ne è il bene supremo. Gli uomini, in proporzione al loro intelletto, hanno ammesso le sue trascendenti pretese. Tuttavia, i suoi commentatori, quasi unanimemente, rifuggono da ogni passo implicante che la sua metafisica è fondata su solide fondamenta e non su concezioni ideali. Ma Platone non poteva accettare una filosofia destituita da aspirazioni spirituali. Le due cose erano una sola per lui. Per il vecchio saggio greco vi era un solo scopo da raggiungere, la vera conoscenza. Egli considerò filosofi genuini o studiosi della verità solo coloro che possedevano la conoscenza di ciò che realmente esiste in opposizione alla semplice conoscenza sensoriale, di ciò che sempre esiste in opposizione al transitorio e di ciò che esiste permanentemente in opposizione a ciò che alternatamente cresce e svanisce, si sviluppa e viene distrutto. Al di là di tutte le esistenze finite e di tutte le cause secondarie, di tutte le leggi, le idee e i principi, vi è un'intelligenza o mente, nus, lo spirito, il primo principio di tutti i principi, l'idea suprema su cui tutte le altre idee sono fondate, il monarca, il legislatore dell'universo, la sostanza ultima da cui tutte le cose traggono il loro essere e la loro essenza, la causa prima ed efficiente di ogni ordine, armonia, bellezza, eccellenza e bontà che pervade l'universo e che è chiamata, per la sua preminenza ed eccellenza, il bene supremo. Il Dio, il Dio al di sopra di tutto. Egli non è la verità, né l'intelligenza, ma il padre di esse. Sebbene questa eterna essenza delle cose non possa essere percepita dai nostri sensi fisici, può essere appresa dalla mente di coloro che non sono volontariamente ottusi. A voi, ha detto Gesù ai suoi discepoli eletti, è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma a loro, i polloi, non è concesso. Per questo io parlo loro in parabole o allegorie, perché essi, vedendo, non vedono, e udendo, non odono e non comprendono. La filosofia di Platone, a quanto afferma Porfirio nella scuola neoplatonica, era insegnata e rappresentata nei misteri. molti lo hanno messo in dubbio e perfino negato. E lo Bec, nel suo Aglaophomus, è giunto all'estremo di presentare le sacre orge come poco più di una vuota rappresentazione per cattivare la fantasia. come se Atene e la Grecia per venti secoli e più si fossero recate ogni cinque anni ad Eleusi per assistere ad una solenne farsa religiosa. Agostino, il padre vescovo di Ippona, ha risposto a queste affermazioni. Egli sostiene che le dottrine dei platonici alessandrini erano le dottrine esoteriche originali dei primi seguaci di Platone e definisce Notino come un nuovo Platone. Egli spiega anche i motivi del grande filosofo per velare, in senso intimo, ciò che gli insegnava. Quanto ai miti, Platone dichiara nel Gorgia e nel Fedone che essi sono veicoli di grandi verità meritevoli di essere ricercate. Ma i commentatori sono così poco in rapporto con il grande filosofo da essere costretti a riconoscere di ignorare dove la dottrina finisce e comincia il mito. Platone dissipò la superstizione popolare circa la magia e i demoni e sviluppò le idee esaltate del suo tempo in teorie razionali e concezioni metafisiche. Forse queste non resisterebbero appieno al metodo di ragionamento induttivo stabilito da Aristotele e tuttavia esse sono talmente soddisfacenti per coloro che ammettono l'esistenza di quella più profonda capacità intuitiva quale criterio per accertare la verità. Fondando tutte le sue dottrine sulla presenza della mente suprema Platone insegnò che Nus spirito o anima razionale dell'uomo in quanto generato dal padre divino possedeva una natura fine o addirittura omogenea con la divinità e capace di contemplare le realtà eterne. Questa facoltà di contemplare la realtà in modo diretto ed immediato appartiene solo a Dio. L'aspirazione a questa conoscenza costituisce ciò che veramente si intende per filosofia amore per la sapienza. L'amore per la verità è implicitamente l'amore per il bene e così predominando su ogni altro desiderio dell'anima purificandola e assimilandola al divino dirigendo ogni atto dell'individuo eleva l'uomo a partecipare alla divinità e a comunicare con essa e lo ristabilisce nella sua somiglianza con Dio. Questo volo dice Platone nel teteto consiste nel divenire simile a Dio e questa assimilazione è il fatto di divenire giusti e santi con la saggezza. Sempre viene sostenuto che la base di questa assimilazione è la preesistenza dello spirito o nus. Nell'allegoria del carro tirato da cavalli alati data nel Fedro Platone rappresenta la natura psichica come composita e duplice il Tumos o parte epitometica formato da sostanze del mondo dei fenomeni e il Unmoides la cui essenza è legata con il mondo eterno. La presente vita terrena è una caduta e una punizione. L'anima dimora in quella tomba che chiamiamo corpo e nel suo stato corporeo prima di essere stato sottoposto alla disciplina e all'educazione l'elemento noetico o spirituale è addormentato. Così la vita è un sogno più che una realtà. Come i prigionieri nella grotta sotterranea descritti nella Repubblica con il dorso rivolto alla luce noi percepiamo solo le ombre delle cose e le consideriamo effettiva realtà. Non è forse questa l'idea di maia o illusione dei sensi nella vita fisica tratto così caratteristico della filosofia buddista? Ma queste ombre se non ci siamo dati totalmente alla natura sensuale suscitano in noi il ricordo di quel più alto mondo in cui una volta abitavamo l'intimo spirito ha qualche oscuro e vago ricordo del suo stato di felicità prenatale e qualche istintiva e prolettica aspirazione a tornarvi spetta la disciplina della filosofia liberarla dai legami dei sensi ed elevarla nell'empireo del puro pensiero alla visione della verità del bene e della bellezza eterni l'anima dice platone nel teteto non può entrare nella forma di un uomo se non ha mai visto la verità è questo un ricordo delle cose che la nostra anima ha visto un tempo quando viaggiava con la divinità disprezzando le cose che adesso noi consideriamo esistenti e contemplando quello che realmente è per questo solo il nus o spirito del filosofo o dello studioso della somma verità è fornito di ali perché egli per quanto gli è possibile ricorda quelle cose la cui contemplazione rende divina la stessa divinità facendo il giusto uso di queste cose ricordate da una vita precedente continuamente perfezionandosi nei perfetti misteri l'uomo diviene veramente perfetto iniziato alla divina saggezza da questo possiamo capire perché le scene più sublimi nei misteri avvenivano sempre di notte la vita dello spirito interiore è la morte della natura esterna e la notte del mondo fisico annuncia il giorno del mondo spirituale Dioniso il sole notturno viene dunque adorato piuttosto di Elios il sole del giorno nei misteri erano simboleggiate le preesistenti condizioni dello spirito e dell'anima la caduta di quest'ultima nella vita terrena e nell'ade le miserie di questa vita la purificazione dell'anima il suo ritorno alla felicità divina ossia la sua riunione con lo spirito Teone di Smirne paragona giustamente la disciplina filosofica con i riti mistici e gli afferma la filosofia può essere chiamata l'iniziazione ai veri arcani e l'istruzione ai genuini misteri questa iniziazione ha cinque parti prima la previa purificazione seconda la missione a partecipare ai riti arcani terza la rivelazione epottica quarta l'investitura o insediamento quinta che deriva da tutte queste è amicizia e comunione intima con Dio e il godimento di quella felicità che sorge dall'intimo dialogo con gli esseri divini Platone chiama epopteia o visione personale la perfetta contemplazione delle cose che si apprendono intuitivamente assolute verità idee e li considera come l'atto di cingere la fronte e di incoronare come analogo all'autorità che ognuno riceve dai suoi istruttori di condurre gli altri alla stessa contemplazione il quinto grado è la più perfetta felicità che di qui sorge e secondo Platone è la massima assimilazione alla divinità possibile agli esseri umani questo è il platonismo ralph waldo hammerson dice da platone proviene tutto ciò che finora è stato scritto e discusso dagli uomini di pensiero e gli assorbi il sapere del suo tempo quello della Grecia da Filolao a Socrate poi quello di Pitagora in Italia poi quello che poté procurarsi dall'Egitto e dall'Oriente la sua mente era così vasta che tutte le filosofie europee e asiatiche furono contenute nelle sue dottrine e alla cultura e alla contemplazione e gli aggiunse la natura e le qualità del poeta